Il Tribunale per i diritti del malato riaccendere i riflettori sui lavori in corso d'opera al nuovo ospedale di Sulmona. Stando al cronoprogramma della Asla Vezzano-Smona-L'Aquila, si sarebbe registrato un ritardo di circa un mese sulla tabella di marcia. Potrebbe essere fisiologico, visto che si tratta di appena 30 giorni, ma tanto è bastato per far tornare la preoccupazione con il TDM, che non abbassa la guardia, soprattutto dopo le polemiche di medici e pazienti a proposito del trasferimento di servizi in reparti dalla Lavecchia alle due palazzine a Tigua e al Nosocomio. Ci teniamo ad informare i cittadini sull'andamento dei lavori, ed anche se si tratta di un piccolo ritardo, è bene che non si perda più tempo alla luce dell'operazione sicurezza ancora da definire, fa notare il responsabile del TDM, Edoardo Facchini. In quest'ora intanto il TDM tornerà a chiedere un tavolo urgente con il sindaco di Sulmona-L'Amaria Casini e l'assessore regionale. Alle aree interne andreggere Solimo per riaprire la discussione sulla classificazione dei presidi ospedalieri, alla luce della delibera della giunta regionale che sancisce il DEA di secondo livello fra Chieti e Pescara e dispone una commissione per lo studio di fattibilità di un ulteriore presidio ospedaliero di secondo livello, l'Aquila Teramo.